Ok, per far salire l'accento borseggio rapidamente, allora, vestiti, stivali con 36% più furtivo, 36% di borseggiare con successo maggiore, roba dedrica, collana con 41% borseggiare, bracciale 24% borseggiare, anello 41% borseggiare. Ora, qui è la confraternita oscura, qui c'è la stanza delle torture, ci mettiamo vicino a questa qui, accucciati, e facciamo varie, andiamo sul denaro, e dai, dal 90% di piazzare, e lo riprendiamo, e sale il livello, 89. Dai, ok, ora, prima o poi vi scopre, pure se avete il 90%, per sbrigarvi, andate qui, uscite, rientrate, e continuate a farlo finché non v'è salita a 100%. Grazie.